Pronto? Pronto? Pronto, stavo aspettando. Senti, che c'è Rana? No, sta dai Carzini. Ah, e chi so? I cugini Carzini. Ah, quelli che hanno accoppato il boccia. Quindi sta da loro, allora la richiamo. Chiamala lì. Ma, non lo so, quelli sono un po' decoccio. Beh, che te frega che so' decoccio. Mi scoccio a chiamarli. Sia a voi, a Rana sta là. Vabbè, vabbè, muo' la chiamo. Te saluto, papere. Pronto? Pronto, sono socio secco. Posso parlare con la Rana? La Rana, abbrassatevevede. Non ho capito. La Rana sta lì da voi? La Rana, abbrassatevevede. Oh, io non ti capisco. Aspetta, mostri da Arturo, vieni. Arturo? Ti hai detto che mi passi Arturo? Pronto? Bella tu, so socio secco. Ci puoi dire a Rana che... A Cimonte, a Rana? Non ho capito. A Rana? E così, passiamo a Rana che sto da Cipriani. Cipriani, 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 a Cipriani. No, io scontri da Cipriani, tu mi devi da passare la rana. Aspetta, passi Arturo. No, no, Arturo, mi devi da passare la rana. Pronto, eh? Allora, Arturo, stammi a sentire. Devo da parlare con la rana per... Cipriani, Cipriani. Basta! Non devi chiamarci Cipriani! Pol cazzosso. Ma che cazzosso? Ma che cazzosso hai detto? Basta! Senti! Pol cazzosso. Allora, Rana, Rana, sta lì? No. E che voleva tanto? Quando viene Rana, dì che sto da Cipriani. Priane? No, Priane, Cipriani. 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 Bravo. Cipriani. Cipriani, 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 Cipriani. Non ti fai fare la muro. Cipriani. Cipriani.